Lorenzo Cittadini, il re del tempo, finalista al premio Valentina Giovagnini una canzone davvero molto particolare con un testo non banale e non scontato ce ne puoi parlare? Sì, la canzone che presento a questo premio è un vero invito a riprendersi un po' il tempo che tante volte perdiamo per strada nel nostro quotidiano è un invito a godere di quelle 4-5 cose della nostra vita che si fanno veramente stare bene quindi è solamente un piacere poterla presentare qui al premio Giovagnini Ci puoi raccontare di te, quello che è stato il tuo approccio alla musica come sei arrivato alla musica e quali sono state le tappe che poi ti hanno portato qui al premio Giovagnini? Sicuramente l'approccio alla musica viene da molto lontano da quando ero piccolo l'approccio alla chitarra e al canto mi hanno portato poi negli anni a comporre i miei primi demo fino a raggiungere quest'anno con la pubblicazione della Rosa Corsara che è il primo album da solista prodotta da Simone Chivilò sono in giro con alcuni musicisti siamo stati al Collisioni Festival a Barolo proseguiremo per alcune date in Calabria fino al Lago Film Festival a Vittorio Veneto dove cerchiamo di promuovere questo disco cantautorale folk dove è inserito appunto il re del tempo Valentina Giovagnini si avvicina a quella che è la tua musica come sei arrivato a lei? quantomeno conoscevi la sua musica prima di questo concorso? sì, quello che mi ha appassionato sicuramente è l'aspetto etnico che avevano le sue canzoni anche il suo approccio appunto con lo strumento questo mi ha incuriosito molto infatti appena ho visualizzato questo link che poi mi ha portato alla scoperta del premio mi sono ulteriormente appassionato a Valentina e a quello che è stato il suo percorso musicale e al suo repertorio musicale soprattutto questo è tutto 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 Grazie.